Allora andiamo qua a fare questo livello Speruma raga, non c'è più da due giorni che sto in ballo a fare tutto cazzo il problema, risolverlo, vediamo Sperma raga, non c'è più Oh, c'è molto lato. ok ragazzi si inizia allora facciamo così allora vediamo cosa dobbiamo fare ok allora ok ok ci siamo ci siamo wow posso fare il teletrasporto ok allora ok e ora mi lo dici così ok spaccato qua mi serve a riportare allora lui può tutelare l'animale non ce l'ha ok ok ci siamo ok ci siamo allora dai Harry apri sta porta potancello che cazzo è no ok allora devo trovare ingredienti dove li troviamo gli ingredienti cazzo di cose oh meno male così corre un po' allora uno è qua e lo mettiamo qua altro era qua ce l'avevo già in mano non so e me ne manca uno no no e me ne manca uno Sì, eccola Ok Oh, che palle Oh, non me lo prendeva Ok Sicuramente faccio la pozione della super forza Vediamo C'è Ok Che mi serve per te Questa volta Ok Allora Ok Ok, ci siamo Una pizza O una torta La torta Eccolo lì Venga rimbagno Tu Ok Ok Allora Che devo fa' Qua Qua dobbiamo mettere un po' A posto tutto Eh Questo mi pare che Andrà qua Ok Ok Questo per rompere Sì Questo per rompere Ok Allora Questo lo mettiamo qua Questo lo mettiamo qua Ok Ok Cosa manca Manca una foto Eh Vai pulisci Cioè 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 Mica L'hanno nascoste bene Ste foto Sì Cosa 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 Sì Sì Lo ricordo lui Che era nel primo Mi pare Ok Destruzione Lego Sì Oh Ok Eh ciao Allora Che cazzo devo fare Ma questi non li posso Che devo fare Vabbè poi prenderà il giornalino e se la ride Eh appunto Immaginavo Eccolo qua Ok Ok Devo eliminare Ok Dai sorella attivami le scale Ok Ah ok Vai appo Ok Ah no aspetta Mi serve lui mi sa Allora E questo dove io l'attacco scusa Dove l'ho attaccato scusa Ma lì L'ho appattuto Ma sei serio E questo Cazzo mi metto Ok 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 ci siamo Eh dopo tre anni e mezzo Ok Ok Oh Bello Completato ragazzi Ci vediamo qui la prossima volta Ciao Ciao